Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi, siamo tornati su FIFA 18 per la carriera allenatore siamo attualmente a lunedì 7 agosto, abbiamo tutto il calcio e mercato davanti abbiamo attualmente 32 milioni da spendere per i tre nuovi trasferimenti abbiamo ricevuto un sacco di offerte tra, è un posto in arrivo, per le trattative tra Paolo Di Bala e un valore perfetto, hanno offerto attualmente 127 milioni, per Higuain 114 milioni attualmente ho intenzione di rifiutare entrambe le offerte, o magari trattare sicuramente non ho intenzione di vendere Di Bala perché è un grandissimo giocatore, mi piace un sacco Higuain effettivamente ha 29 anni, si può ancora tenere una stagioncina avevamo comprato nello scorso episodio Garrett Bale spendendo 120 milioni porca miseria, eccolo qua, però effettivamente fa la sua figura ci serve attualmente un terzino sinistro e ho intenzione di comprare un nuovo centrocampista a questo punto direi di comunque proseguire magari nell'attesa di nuova offerta e poi fare qualche altra ecco qua, allora, ritirata l'offerta per... ok, giustamente, causa mancata risposta in tempi brevi giustamente, vediamo questa, sì, questa la possiamo... ok, Paolo Di Bala attualmente la teniamo ma non penso, no, assolutamente non ho intenzione di venderlo, vediamo se ci arriva qualche altra offerta sì, ok, sono arrivate Asamoah vediamo un po' che cosa ci offrono, questo bel ragazzotto qua glielo vendiamo alla grande accetta offerta, Asamoah, terzino sinistro ci offrono 80 milioni vale 80 milioni, effettivamente lo potremo tranquillamente vendere, accetta l'offerta in modo tale da poter così comprare dei nuovi giocatori ragazzuoli, abbiamo ricevuto un'offerta per Claudio Marchisio eh, io andrei a trattare, gli voglio spillare 50 milioni per Marchisio tratta allora, proviamo a fare il colpo, 65 milioni applica, ok, avanza offerta vediamo che cosa ci dicono per 65 milioni, 44 contro offerta, avanza offerta, fai un'offerta del cartellino a 50 milioni mi posso fermare quello che effettivamente volevamo portare a casa, 50 milioni, avanti, avanza offerta vediamo che cosa dicono, un valore di 33 milioni vediamo che cosa dice, Zinedine Zidane capisco che... no, ok siamo disposti a offrire 50 milioni, perfetto molto bene, Claudio Marchisio per 50 milioni ho due colpi di mercato eccezionali da fare il primo, abbiamo già comunque i soldi per poterlo fare perché abbiamo quanti soldi dentro all'ufficio abbiamo 53 milioni, pronti a investire sul calcio mercato io direi di subito andare a cercare un nuovo giocatore vi faccio vedere qual è eccolo qua ragazzoli 23 anni, vale già 31 milioni questo potrebbe essere davvero un grande acquisto per noi vediamo quanto riusciamo a portare a casa se lo riusciamo a portare a casina perché effettivamente sarebbe un gran colpo poi mi serve il terzino e poi effettivamente siamo completi 50 milioni, io ci compro sto ragazzotto qua eccolo qua poi effettivamente è un overhaul 82 però può migliorare veramente tanto contatta per l'acquisto ah cavolo è vero l'hanno comprato da poco merda inizia a Diego Silva ok, contattiamo per l'acquisto il Paris Saint Rearman Diego Silva vediamo cosa succede l'idea è offrire 40 milioni quindi avanziamo subito l'offerta e vediamo che cosa ci dicono 47 milioni io contro offerta di vediamo un po' 44 milioni vediamo che cosa ci dicono potrebbe andarci effettivamente molto bene avanza offerta che ne dite di Diego Silva accettiamo questa offerta molto bene Diego Silva molto bene, molto bene contattiamo subito il nostro Diego Silva trattiamo e andiamo subito a prenderlo a metterlo in squadra sarà davvero un grande acquisto per noi ok, molto bene ovviamente cruciale la durata del contratto biennale contro offerta io lo voglio per 3 anni minimo vediamo che cosa ci dicono si per il contratto offerto 3 anni è l'ideale molto bene al momento inseriamo una clausola recessoria accettiamo non inseriamo ok per quanto lo stipendio lo stipendio penso ci possa tranquillamente andare bene abbiamo i fondi per farlo ok abbiamo Tiago Silva in squadra siamo alla prima di campionato simuliamo la partita vediamo come va la nostra Juventus proprio sfornata sul momento 3 a 1 eccezionale bene bene ok molto molto bene prima partita vinta 3 punti conquistati abbiamo una mail nel nostro ufficio stop trattative ok offerta trasferimento del cloud ah ok l'avevamo letta questa si ok va bene non ci sono attualmente messaggi voglio vedere un attimo profitto 81 milioni abbiamo venduto Marchisio a questo punto no ancora ce l'abbiamo in squadra e voglio vedere un attimo hub mercato effettivamente si stanno trattando con Marchisio ok ci hanno offerto qualcosa per pianici io rifiuto l'offerta non voglio minimamente venderlo quindi lo leviamo però dobbiamo comprare un nuovo giocatore perché effettivamente cavolo siamo ridotti male adesso con la rosa perché non so chi cavolo metterci qua allora qui esterno destro pianici matuidi eh insomma ci serve un rinforzo assolutamente per il centrocampo stiamo trattando con Carletto Ancelotti per Arturo Vidal vediamo un po offerta per il per il cartellino gli offriamo per ora da 37 mi fermo sui 40 40 milioni avanti avanza offerta loro ci faranno un'offerta che sarà sicuramente più alta andiamo in mezzo e ci portiamo a casa Arturo Vidal con davvero pochissimo con pochissimo cash siamo soddisfatti 40 milioni Arturo Vidal molto bene adesso gli andiamo a offrire voglio vedere un attimo una cosa dobbiamo trattare con Vidal attualmente eh devo sistemare il budget per gli stipendi però perché se no qui non ci abbiamo una lira ok si va molto va più che bene si e no perché ho sbagliato aspettate scusate budget trasferimenti ok perché se no ovviamente non possiamo offrirgli che gli offriamo hub mercato con Vidal dovremmo essere a posto abbiamo praticamente tutti tutti i reparti completi perfetto Arturo Vidal in squadra andiamo subito a posizionare all'interno della squadra ho guardato per Verratti ma effettivamente non si può fare Verratti è un costo eccessivo non riusciamo a comprarci lo costo a 60 milioni tipo quindi assolutamente no però comunque eccolo qua dove sei dove sei Vidal Arturo al posto di marrone Arturo Vidal molto bene squadra ragazzi è completa ci sono un sacco di elementi molto molto forti costa probabilmente vuoi salvare le modifiche sì adesso ci andiamo a fare qualche partita andiamo avanti col campionato vediamo un po' abbiamo offerta per Barzagli no ovviamente no non cazzo vendo Barzagli rifiuto l'offerta molto bene col cazzo che vendo Barzagli andiamo avanti volevo fare la seconda partita di campionato per prendere i nostri cari amati i sei punti e arrivare sempre a punteggio pieno dopo la seconda giornata pareggio che non va bene abbiamo pareggiato questo dove abbiamo dovuto far giocare eh no no pareggio non ci va bene per niente questo pareggio non ci soddisfa offerta per il trasferimento di Gonzalo si 94 milioni Barza te lo chiedo per Messi per Gonzalo Higuain io voglio 190 milioni avanzo offerta riteniamo un'offerta intorno ai 190 milioni più adatta 110 no 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 contro offerta allora rimuovi clausola per la rivendita offerta del cartellino 150 eh no 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 150 milioni sotto i 150 milioni non scendo per Gonzalo avanzo offerta vediamo un po' che dicono contro offerta no no ma fai una offerta del cartellino io più basso non te lo do 145 poi posso scendere dei 5 milioni se proprio avanzo offerta 145 vediamo che cosa dice ooooh niente niente Gonzalo Higuaino e così ragazzoli siamo arrivati al termine del calcio mercato abbiamo fatto davvero grandi colpi di mercato siamo la migliore offerta 115 milioni per Garrett Bale ci sono arrivati due mail una che ci dirà appunto che è finito il calcio mercato l'ultimo giorno il calcio mercato si è concluso e infortuna allenamento vabbè sti cazzi ok perfetto ragazzoli possiamo continuare avanti abbiamo avuto un profitto di 94 milioni abbiamo zero budget per i trasferimenti 53 mila per gli stipendi insomma siamo ridotti proprio proprio all'osso stiamo andando bene siamo primi no eravamo primi in campionato c'è il Milan la Fiorentina il Chievo che sono pieni siamo quinti noi andiamo avanti dobbiamo offerta il testamento per 500 vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' questo ragazzo qua accetta l'offerta va bene va bene siamo tutti felici e contenti andiamo avanti voglio fare diverse partite perché dobbiamo recuperare offerta di trasferimento il quadrato ho 26 milioni ma io non posso vendere quadrato adesso mi serve mi si infortuna il giocatore ci devo mettere per forza quadrato partita contro il Chievo una partita difficile sofferta vediamo un po' che cosa andiamo a fare 2 a 0 con gol di Pjanic e si di Dybala su rigore bene 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 adesso abbiamo la prima partita di Champions abbiamo due email un email Matuidi grazie per tutte queste azioni mi stai concedendo mister farò il mio meglio per non deluderla molto bene no Matuidi tu non mi deludi sono contento di come stai giocando simuliamo la partita ovviamente la prima la prima partita di Champions Cup col Basilea scusate e oddio vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' 2 a 0 Matuidi e Pjanic Matuidi ci aveva anche mandato la micca era contento molto bene stiamo andando abbastanza bene attualmente tabelloni questo vabbè tabelloni andiamo avanti voglio vedere effettivamente come sta andando la classifica siamo a 7 punti il Napoli a 9 e la Fiorentina a 7 quindi sì va bene c'è il Napoli capo in cima alla classifica ah no è che va bene ok se i possibili incarichi i messaggi lo togliamo andiamo avanti Sassuolo Juventus 2 a 1 Pjanic e Pjanic doppietta grande abbiamo tenuto fortuna abbiamo tenuto sta davvero giocando molto bene i 10 punti per la Juve stiamo andando veramente veramente forte un grande campionato il Napoli ha vinto di nuovo noi abbiamo pareggiato purtroppo non ci sono messaggi cosa dici ok possiamo continuare facciamo un'ultima partita con la Fiorentina con la Fiorentina sarà veramente difficile perché è una bellissima squadra sta giocando molto bene questo campionato e va bene subito un giallo 4 a 1 goleada matuidi di bala pianice di bala sul rigore come andiamo come i treni proprio come i treni una grande squadra abbiamo messo su 13 punti andiamo avanti effettivamente se riusciamo poi il derby ci fermiamo al derby perché il derby lo giocheremo sicuramente nel prossimo episodio siamo secondi in campionato a 2 punti dalla capoclassifica che è il Napoli abbiamo il Chievo a 12 punti il Milano a 10 sotto va bene ragazzoni per questo video è tutto ringrazio tantissimo la visione lasciate un mi piace se vi è piaciuto iscrivervi al canale se avete fatto di condividere il video su Facebook per farmi lasciare una persona mi raccomando passate in tutti in descrizione Facebook, Instagram e Tele e vi facciamo come al solito al prossimo video ciao a tutti ragazzi